In questo momento sono stati aperti i bandi del PSR 2014-2020 della Regione sulla misura 16 che è la costituzione di gruppi operativi per l'innovazione e sono state individuate diverse tematiche, tra cui sulla focus area 5A rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura che è esattamente il lavoro che noi da più di 60 anni stiamo portando avanti come area agronomica ambientale del Consorzio del CER. C'è proprio un preciso bando che si riferisce all'efficientamento dell'uso dell'acqua con ricadute territoriali e consortili e quindi stiamo mettendo in campo 5 progetti che riguardano da una parte l'efficientamento dell'organizzazione dell'uso dell'acqua da parte dei consorti di bonifica, sempre sfruttando il nostro sistema esperto IRINET, c'è un progetto che chiamiamo paratoie intelligenti che vorrebbe legare la conoscenza del territorio e la registrazione di tutti gli agricoltori di un determinato distretto irriguo al servizio IRINET sulla base della conoscenza delle esigenze irrigue che noi possiamo avere a livello giornaliero. Il Consorzio potrà gestire in automatico le paratoie che gestiscono la distribuzione dell'acqua a livello territoriale. Altri progetti che stiamo mettendo in piedi riguardano l'uso efficiente dei sistemi irrigui, per esempio sulle colture frutticole, l'acclimatizzazione dei fruttetti con il doppio impianto e l'efficientamento e comunque la messa a punto di tecniche irrigue sempre più efficienti come l'irrigazione a goccia a bassa portata con l'ala gocciolante interrata. Altri progetti riguarderanno invece l'integrazione tra tutto il mondo di sensoristica e di stazioni meteo, di sensore di umidità del terreno che molte organizzazioni di produttori stanno portando avanti. Cerchiamo di fare un progetto che vuole integrare il sistema Irinet e Iriframe del mondo della bonifica che comunque la Regione Emilia Romagna ha preso a riferimento ed è già presente dentro i programmi di produzione integrata. Vogliamo provare a integrare le informazioni che vengono dal mondo privato della sensoristica con il modello di bilancio idrico per migliorare sia la bontà del risultato del bilancio idrico e integrare e evitare anche che gli agricoltori utilizzino nel modo non corretto tutta la sensoristica. Altri progetti riguarderanno la rete invece di monitoraggio della falda ipodermica che verrà integrata con una modellistica legata all'andamento delle precipitazioni da una parte e all'influenza dei canali rigui di bonifica durante l'estate sul sostegno della falda ipodermica stessa. Con questo progetto che è in fase realizzativa copriamo altri due chilometri fondamentali e quindi siamo in penetrazione verso Rimini nel senso che finalmente riusciamo a dare un contributo reale anche al di là dell'uso. Il progetto generale del CER prevedeva l'arrivo fino all'uso e questa invece è una dimostrazione che con grande perspicaccia siamo riusciti con questo progetto a entrare anche pesantemente all'interno del territorio di Rimini. Sono due chilometri e mezzo su un totale di 3,3 finanziati. È un lavoro che sta andando bene nel senso che per fortuna abbiamo avuto un inverno molto siccitoso e quindi dal punto di vista lavorativo questo ha fatto sì che il 50% dei lavori siano già stati realizzati. Chiaramente ne abbiamo ancora una buona metà da poter realizzare. Entro la fine di quest'anno comunque come stabilito in contratto dovremo riuscire a collegare il rio Pircio che è la nostra destinazione finale dell'acqua al tratto già eseguito a valle del fiume Uso e riuscire a portare e ad aggiungere al CER 133 chilometri ulteriori 2 chilometri all'interno della provincia di Rimini. La cifra è importante, si parla di 12 milioni di euro totali di quadro economico, 6 milioni di euro andati in gara con il ribasso notevole attorno al 50%. in somma.